pennarello verde che ore sono sette e mezza per questo video mi trasformerò in una ragazza californiana che parla un po così oh my god I can't believe it oh no my god perché ve lo dico in questa maniera qua perché la parola di oggi è totes totes yeah totes yeah man totes totes vuol dire due cose ragazzi per prima cosa vuol dire borse non so spiegare in italiano che tipo di borse sono ma ve le faccio vedere queste qua ma totes è anche l'abbreviazione di totally attenzione inglese americano stiamo parlando british non c'entra niente totes è l'abbreviazione di totally totalmente certamente sicuramente totally I am totes shocked cioè sono totalmente scioccata I totes want to go to the mall cioè voglio andare al centro commerciale totally capito? that view is totes amazing quella vista quella visuale quel panorama è totalmente amazing capito? sentite questa perché bella le ragazze californiane a quanto pare dicono totally 190 volte al giorno circa questi ragazzi hanno fatto un po i calcoli e praticamente dicendo totes al posto di totally risparmi 26.6 secondi al giorno che in un anno diventano 2 ore appunto 7 quasi 3 ore risparmiate all'anno dicendo totes al posto di totally capì? iscriviti al nostro canale